Quest'oggi è la volta di Vernier Mars, terzo dispositivo rilasciato dalla nuova azienda asiatica Vernier, dotato di un'ottima costruzione, un design non particolarmente ispirato e un hardware da medio di gamma, il tutto condito con Android 7.0 Nougat, ma ci sono alcuni dubbi che scopriamo subito all'interno della nostra recensione completa. Dopo torre da Apollo Lite, Vernier presenta il suo nuovo medio di gamma Mars. Nonostante il design piacevole, anche se non particolarmente ispirato, questo nuovo smartphone della giovane azienda asiatica è veramente ben realizzato. Buona la soluzione del lettore di impronte digitali posto lateralmente, sebbene talvolta non preciso e non particolarmente rapido nello sblocco. Questo ha comportato di conseguenza anche lo spostamento più in alto in posizione piuttosto innaturale del tasto power zigrinato e del bilanciere del volume. Spostandoci sul profilo sinistro trova posto il carrellino che può ospitare una micro sim ed una nano sim, oppure come spesso accade, una sim e l'espansione di memoria con microSD. In basso è presente centralmente una porta USB Type-C con supporto alla ricarica rapida, affiancata dal microfono e dall'altoparlante di sistema, mentre il jack da 3.5 mm è collocato sul profilo superiore. Posteriormente la bella ma scivolosa scocca in metallo è caratterizzata per l'elegante ma non originale design delle antenne. Collocata in alto a sinistra poi troviamo la fotocamera, un filo sporgente ai culati il flash dual led dual tone. Passando alla zona frontale notiamo cornici laterali molto sottili ed in alto la capsula auricolare, sensori di luminosità prossimità e led di notifica, mentre in basso a schermo sono presenti i tasti sistema. Vernin Mars adotta un display IPS e LCD da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione full HD e 401 ppi di densità. Buona la riproduzione dei colori così come una luminosità massima, tra l'altro ben gestita dal sensore per la regolazione automatica. Buoni anche gli angoli di visuale dove non ho riscontrato alcun viraggio nei colori. Presente inoltre il menu MiraVision e la funzione Eye Protection. Sotto il profilo hardware Vernin si affida a Mediatek e al suo Helio P10 bloccato a 2 GHz, abbinando ben 4 GB di memoria RAM e le PDR3 capaci di rendere fluide sia le operazioni nell'uso quotidiano quanto quelle di multitasking più spinto. 32 invece sono i GB di storage interno espandibili attraverso una microSD, rinunciando ad uno slot SIM. Ma anche sotto il profilo gaming i risultati sono buoni grazie alla GPU Malit 860 MP2, difatti titoli pesanti come in Real Racing 3 vengono caricati con dettagli al massimo e non si avvertono cali di framerate tali da pregiudicare l'esperienza gaming. Discreta anche la navigazione web affidata al browser Google Chrome installato di default sul device. Passando al comparto fotografico Vernin si affida a sensori Sony e Samsung. Posteriormente troviamo un Sony MX258 Exmor RS da 13 megapixel f2.0 messa a fuoco PDAF abbinando un flash dual led dual tone. Gli scatti durante le fasi di urne raggiungono la sufficienza ma nulla di più, lenta la messa a fuoco e purtroppo oramai obsoleta l'interfaccia dell'app fotocamera stock Mediatek. La qualità degli scatti degrada vistosamente nelle fasi notturne dove è evidente la quantità di rumore. A tutto ciò non viene in aiuto neanche il flash negli scatti a soggetti ravvicinati a causa di una non corretta sincronizzazione. Frontalmente il sensore da 5 megapixel Samsung S5K5 II offre selfie di media qualità. I video raggiungono la risoluzione massima full HD a 30 fps, presente la stabilizzazione digitale attivabile nelle impostazioni dell'app fotocamera. Lento il passaggio tra condizioni di fuoco corto e fuoco lungo, così come l'adattamento ai cambi di luminosità. Sempre riguardo la multimedialità, buono il volume massimo che restituisce l'altoparlante di sistema, un po' meno per quanto concerne l'equalizzazione, modificabile attraverso alcuni preset disponibili nell'applicazione di default per l'ascolto dei brani musicali. Per quanto riguarda l'autonomia di Bernie Mars, abbiamo all'interno di questo smartphone una batteria integrata non rimovibile da 3000 mAh, che con un uso medio intenso durante l'arco di una giornata mi ha garantito circa 4 ore e 40 di schermo attivo, con un utilizzo dalle 7 della mattina fino circa alle 18 e 30 della sera. Oggettivamente mi sarei aspettato un risultato migliore, poiché abbiamo un processore Lelio P10 non particolarmente energivoro e quindi sostanzialmente con questo tipo di capacità della batteria mi sarei aspettato qualcosina di più. Per quanto riguarda invece la ricarica del dispositivo, abbiamo in dotazione un caricabatterie in formato europeo che supporta la ricarica rapida fino a 12 volts e 1.5 ampere, che risulta essere piuttosto rapida e che quindi tutto sommato ci consente anche con circa 30 minuti di raggiungere il 50% di carica della batteria. Non molto soddisfacente anche il comparto connettività, infatti ho riscontrato una frequente altalenanza tra il segnale 3G e 4G, con uno switch lento che a volte ha reso necessario il riavvio del device. Stabile invece il segnale wifi, che vi ricordo è di tipo ABGN dual band. Infine è buona anche la navigazione GPS testata con MAPS tanto nella precisione quanto nella stabilità del segnale. Sicuramente pregevole lo sforzo di Verny di fornire una ROM basata su Android 7.0 Nougat per questo nuovo Mars. Ci troviamo sostanzialmente davanti ad un'interfaccia stock senza particolari personalizzazioni da parte del produttore. Più interessanti le funzionalità di Nougat, come la gestione del multitasking attraverso il quale è possibile lo split screen per la visualizzazione di due app contemporaneamente, il doppio tap sul tasto multitasking che permette lo swap tra le ultime due applicazioni utilizzate di recente e la tendina delle notifiche a doppia corsa, il menu impostazioni visualizzabile lateralmente e anche il supporto a due lingue principali di sistema. Infine giungiamo a quelle che sono le conclusioni per quanto riguarda la recensione completa di Verny in Mars. Il device per quanto riguarda l'aspetto costruttivo è veramente ben realizzato, piacevole anche il design anche se non particolarmente ispirato e mi ha convinto anche l'hardware che soprattutto grazie ai 4GB di memoria RAM riesce a essere fluido in ogni tipo di situazione, sia quelle di utilizzo quotidiano sia quelle più spinte. Ciò che mi ha convinto di meno sicuramente è l'aspetto multimediale, quindi la fotocamera anche riguardo all'app Mediatek ormai particolarmente datata e ciò che mi ha convinto anche poco è il reparto connettività con un'altalenanza di segnale tra il 3G e 4G non particolarmente stabile. Lodevole sicuramente il fatto che il device sia aggiornato già ad Android 7.0 Nougat e questo sicuramente è un pregio e ci auguriamo, come abbiamo visto anche su altri device di Verny, che gli aggiornamenti continueranno e verranno fixate anche quelle che sono alcune problematiche di questo device. In descrizione vi lascio il link per quanto riguarda l'articolo completo della recensione di Verny in Mars. Vi invito a iscrivervi al nostro canale ed attivare le notifiche in modo da non perdervi tutti i nostri nuovi video. In descrizione vi lascio anche tutti i link per seguirci su tutti i nostri vari social. Un saluto da Roberto, come al solito per GizChina.it